Buongiorno ragazzi, torniamo a occuparci del programma di storia, precisamente del congresso di Vienna. Innanzitutto, che cos'è il congresso di Vienna, quando viene fatto e da chi viene fatto? Il congresso di Vienna è una riunione che viene fatta nel 1814-1815, quindi è una riunione che dura circa due anni. Perché viene fatta e da chi viene fatta? Innanzitutto viene fatta dalle potenze vincitrici che avevano sconfitto Napoleone, quando viene fatta? Ovviamente dopo la caduta di Napoleone e quindi il ridimensionamento del grande impero francese. Quindi il congresso di Vienna è da collocare storicamente dopo la caduta di Napoleone, che era ovviamente il continuatore degli ideali rivoluzionari, e come scopo ovviamente aveva di riscrivere, ridistribuire i confini che erano stati ovviamente modificati a livello internazionale dall'avanzata napoleonica. Tutto questo periodo, non soltanto in Italia ma in Europa, si chiama restaurazione. L'età della restaurazione dura in alcuni paesi fino alle rivoluzioni del 1848, che poi andremo a vedere, nel caso italiano durerà fino all'unità d'Italia del 1861. Tutto quindi ha origine dopo la caduta e l'abdicazione da parte di Napoleone. Tutti i sovrani che erano stati spodestati dai francesi e quindi che avevano perduto legittimità e potere per l'avanzata napoleonica, si coalizzano, si riuniscono e in nome del principio di legittimità, che viene sancito dal congresso di Vienna, ritornano sui loro troni. Quindi è un po' questo il congresso di Vienna, significa riportare al potere quelli che erano i sovrani spodestati da Napoleone. Ovviamente le potenze vincitrici, le vedete nella mappa sottostante, sono soprattutto ovviamente l'Austria e l'Inghilterra e poi anche la Russia, quindi l'impero russo e la Prussia, che vedete in dettaglio. Noterete anche come l'Italia non è ancora uno stato unitario. Vediamo il regno di Sardegna, vediamo lo stato della Chiesa, il regno delle due Sicilie e altri piccoli ducati, il ducato di Modena, Parma, Toscana e poi il regno Lombardo-Veneto. Ricordiamoci di queste cose perché ovviamente le ritroveremo quando affronteremo il percorso che porta all'unità d'Italia. Il congresso di Vienna quindi nasce per tre scopi fondamentalmente. Il primo è reprimere le istanze di rinnovamento politico e sociale che Napoleone aveva sollevato in gran parte d'Europa. Quindi vuol dire annichilire l'ideale napoleonico. Secondo scopo, il più importante politico questa volta, restaurare, da qui la parola restaurazione, le autorità dinastiche e nobiliari al trono. Significa riportare tutte le persone che governavano prima di Napoleone, finalmente al trono. Terzo problema, molto spinoso ovviamente, ridisegnare i confini tra gli stati. Questo è fondamentale e soprattutto è fondamentale per capire gli avvenimenti e i processi storici che seguono tutto l'Ottocento e capire poi anche molte cose hanno ripercussioni anche sul Novecento. Come vedete la Francia, che era un grande impero sotto Napoleone, viene assolutamente ridimensionata, quindi vengono contenuti i confini francesi. Ogni paese porta al congresso di Vienna le proprie istanze, quindi c'è chi vuole determinati territori, eccetera. La Francia manda un inviato che si chiama Talle Iran che approfitta di alcune debolezze dei paesi nemici per portare avanti alcune istanze. Cosa per esempio? Cercò di affermare il principio di legittimità. Cosa significa il principio di legittimità? Significa riportare ai sovrani che possedevano un determinato territorio prima della rivoluzione francese quel determinato territorio, quindi essere legittimati di governare su quel territorio. Un po' come dire di ignorare ciò che era stato fatto durante la rivoluzione francese. Questa cosa ovviamente per la Francia comportò la perdita di tutte le conquiste napoleoniche. Quindi si ritorna ai confini pre-rivoluzione francese e li vediamo nella mappa. Il regno di Francia tra l'altro corrisponde nella sua totalità alla Francia contemporanea, territorio più, territorio meno che perderà o conquisterà nell'Ottocento. L'impero austriaco invece grande vincitore contro la Francia napoleonica guadagna molti territori. Guadagna il Trentino, il Lombardo Veneto che viene restituito all'impero austriaco, guadagna, vedete, alcune zone della Slovenia, della Croazia, l'Ungheria ovviamente, parti di Germania, parti di Romania, la Repubblica cieca. Quindi uno stato veramente grosso. La Prussia poi, che era l'antenata della Germania, è costretta a cedere alla Russia alcune parti di Polonia. Ve le indico qui col mouse. Quindi queste zone vengono cedute all'impero russo. La Russia ovviamente, che era dominata dallo zar Alessandro I, acquista la Finlandia, vedete, che entra nell'impero russo, questa zona qui, e quindi chiaramente si espande anche verso sud. L'Inghilterra in termini territoriali non ebbe grandi vantaggi perché ovviamente trattandosi di un'isola non poteva espandersi in territorio europeo, però fu abile a sottrarre alla Francia numerose colonie. Quindi si espanse soprattutto in ambito coloniale, ed è il motivo per il quale l'Inghilterra poi avrà un grande impero coloniale. In Italia scompaiono alcune stati che erano storicamente presenti. Pensiamo alla Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia l'abbiamo già affrontato, l'abbiamo visto anche in passato. Viene totalmente smembrata e assorbita dal regno Lombardo-Veneto, quindi impero d'Austria, lo vedete in blu nella mappa, si consolidano tanti piccoli ducati, il ducato di Parma, il ducato di Modena, Lucca, il gran ducato di Toscana. Chi è che governava su questi ducati? Governavano delle dinastie imparentate con gli austriaci, quindi con la casa degli Asburgo. Quindi dei piccoli territori, dei piccoli ducati, piccoli regni, ma che erano ovviamente gemellati politicamente con l'impero austriaco. Lo stesso succede anche nel più grande dei regni d'Italia, ovvero il regno delle due Sicilie, cioè tutto ciò che va a sud di Roma, dallo stato della Chiesa, anch'esso imparentato e legato all'Austria da un trattato militare, il che significa che la penisola italiana non solo era divisa, ma non aveva minimamente sovranità politica ed era legata alle sorti dell'Austria. Lo stato pontificio, quindi lo stato della Chiesa, invece viene consolidato, viene risparmiato. Vedete, lo stato della Chiesa non corrisponde soltanto a Lazio, ma comprendeva anche Umbria, alcune zone delle Marche e addirittura fino a Bologna. La Svizzera rimane neutrale, quindi rimane una repubblica l'unica in tutta Europa e il Belgio e l'Olanda invece vengono costruiti come stati cuscinetto tra la Francia e la Germania, tra la Francia e l'Inghilterra, per cercare di mettere proprio una sorta di barriera fisica tra i vari paesi, in quanto il congresso di Vienna doveva servire per far sì che non si creassero nuovi conflitti, quindi era un po' questo lo scopo, sicuramente l'idea era ovviamente di riportare le potenze che governavano prima. Vengono sanciti alcuni principi dal congresso, noi ne elenchiamo tre che sono i principali. Allora, abbiamo già visto il principio di legittimità, dobbiamo aggiungerne altri. Il principio dei compensi. Il principio dei compensi in base al quale si deve compensare, quindi economicamente, quindi bisogna dare un compenso adeguato a quei territori, a quegli stati che rinunciano da parti del proprio territorio. Questa cosa per garantire anche una sorta di riconoscimento economico agli stati che perdono i territori. Poi viene sancito il principio dell'equilibrio politico, che serve a cercare di contenere la forza tra gli stati europei affinché non si verifichino altre mire espansionistiche come quelle napoleoniche, quindi è il caso banalmente della creazione di stati cuscinetto come il Belgio e l'Olanda che fanno il regno dei Paesi Bassi insieme. Poi viene sancito il principio di solidarietà in base al quale le grandi dinastie, quindi i sovrani aristocratici al potere, si assicurano reciproco soccorso nel caso in cui arrivino nuovi conflitti. Questo è il panorama nel quale viene fatto il congresso di Vienna con il suo scopo internazionale, abbiamo visto i stati cosa fanno. Sempre sotto il congresso, durante il congresso di Vienna nasce la Santa Alleanza. La Santa Alleanza nasce nel 15 ovviamente sotto un progetto, con un progetto dello zar Alessandro I, quindi dell'impero russo. Aderiscono alla Santa Alleanza anche l'Austria e la Prussia ovviamente, ma non aderisce l'Inghilterra. Che cos'è la Santa Alleanza? La Santa Alleanza si basava sul principio di intervento, in base al quale gli stati che ne fanno parte si assicuravano reciproca protezione e reciproco intervento qualora uno di questi Paesi fosse stato minacciato. Questo perché? Perché chiaramente nonostante l'equilibrio che viene sancito con il congresso di Vienna, inevitabilmente le potenze temono che questa nuova sistemazione possa essere fuoriera di un nuovo conflitto o nuovi conflitti. In realtà fu così, perché poi il percorso storico che seguirà ci farà capire come ci saranno nuovi conflitti, nuovi moti rivoluzionari durante l'Ottocento. Per riassumere quindi la sistemazione politica europea possiamo risumere in questo modo. La Francia è il grande sconfitto, viene ridimensionato come Paese a livello territoriale, rimane comunque una grande forza militare e politica. L'Inghilterra non viene ampliata da un punto di vista di confini in quanto ovviamente isola, ma allarga le proprie colonie, sottraendole alla Francia. La Russia è chiaramente un grandissimo impero, anche se molto debole, che comanda nella zona orientale dell'Europa e ha annesso la Finlandia, la Polonia e anche parti, lo vedete, dell'Ucraina, della Moldavia. L'Austria invece è assolutamente la padrona dell'Europa centro-orientale e soprattutto comanda buona parte dell'Italia.